Il secondo congresso di IspoItalia è stato incentrato sostanzialmente sugli aspetti tecnologici relativi alla prescrizione delle ortesi nelle paralisi cerebrali infantili e nella prescrizione dei corsetti per scoliosi, attraverso il confronto tra esperti del settore. È stata poi introdotta una sessione dedicata ai giovani per la presentazione e l'educazione alla metodologia scientifica nella ricerca dei dispositivi ortesici e protesici. Durante il congresso è stata anche effettuata una tavola rotonda per la discussione dei nuovi LEA nella quale erano presenti tutte le associazioni professionali e di rappresentanza dei cittadini proprio per fare il punto sull'imminente pubblicazione della nuova normativa.